alfieri in cinquantro scacco matto sei una schiappa papi ne ho vinte otto di seguito oggi metti a posto gli scacchi che ricominciamo forza ambrogio signora c'è qualcosa che mi disturba gradisce un cioccolatino ripieno signora non fare diavoletto ambrogio no la mia è più voglia di qualcosa di sfizioso sfizioso signora è divertente qualcosa che mi dia una scossa dall'interno ho giusto quello che fa per lei signora alexa metti il radio ciliano ambrogio come farei senza di te radio ciliano soddisfa la tua voglia di musica e risate grazie a tutti